Siamo arrivati, stiamo catturando l'obiettivo Charlie 1. Vediamo che fanno adesso. E mi cuida di andare. L'azione non è sicura! Il settore Delta è caduto in mano nemica. Vedi qui! Iniziamo! Sì! Segnalo una minaccia! Le vedo uno! Un obiettivo va a confustare! Un obiettivo va a confustare! Un obiettivo! Un obiettivo va a confustare! 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 Sì. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!